facciamo andare un attimo buongiorno lo zio stasera pizza yes pizza perché non l'abbiamo fatta ieri sera pizza e poi stasera dobbiamo spostarsi dall'altra parte quindi vediamo un po ok andiamo qua un po di pomodoro buongiorno che viene sono al mare bene che sei al mare finalmente se in sardegna finalmente si è portato da mangiare se sei al mare non è così va bene dai sta bene adesso lo copriamo non ho capito cosa hai detto oggi si e non hai visto che bravo che sei stato né se vuoi se vai al mare che parte la mattina e sei giù tutto il pomeriggio è normale che ti porti una frutta o comunque qualcosa da mangiare se non c'è vicino niente da comprarti cose alcune spiagge ci sono i chioschetti che ti danno i barretti che hanno anche la frutta le cose per me un giorno vale l'altro lo zio buongiorno noi come stai ho fatto le mezze lune ripiene col salmone la fila delpia poi con cosa le abbiamo fatte ripiene non lo so così si ma pomari ma proprio proprio ravioli ravioli no più che altro ho fatto mezzelune buongiorno marta buona domenica come stai io sto bene ragazzi voi come state ditemi un po state bene allora questo copriamo qua buongiorno 1101 perfetto e che cavoli un secondo vedete come si sta bene va come si sta bene da ieri sera si sta di un bene questo dopo lo mettiamo in frigo che è quello che stasera qua carbonizzo tutto e le facciamo andare bene le teniamo curate fami e basta fami fami allora io togliero fami famina tutte le altre cose no eh lo dico perché fami mi avevano già chiamato e va bene fami sono io non mi stoppiate tanto il nome che non è bello eh buongiorno effe effe in come stai ciao boss e ciao emily si si per curano se no si 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 è inutile che scrivete così eh buongiorno selene baci bacini baciotti baciotti come stai buona domenica è un po' che non ti vedevo come stai allora cosa abbiamo capito eh forse lo zio non ha capito bene cosa ho detto allora io non mi chiamo fami fami al diminutivo è normale che il mio diminutivo ciao ehi come stai però cioè dai sto bene grazie ho sacato un po' di giorni in piedi mi sono un po' rilassata